Ciao a tutti! Allora oggi registriamo il tutorial di un orecchino. Questo orecchino qua faremo il gemello di questo. Sono partita da una base a cerchio del diametro di 40 mm. All'interno ho cucito delle Helios, delle 11.0, delle Superduo e una perla da 6 mm. Adesso vi faccio vedere nello specifico i materiali e che sono appunto pochissimi e poi cominciamo. Allora sono veramente... è proprio molto semplice da fare. Allora questa è la base dell'orecchino che utilizzeremo. Appunto è da 40 mm e lo spessore è 2 mm. Poi le Helios, ne servono 7 per ogni orecchino. Questa è la colorazione Opac Light Coral Tweedy. Qui ho anche la perla da 6 mm che è quella appunto che metteremo qui al centro e la colorazione è Opac Luster Rose. Poi utilizzeremo delle 11.0. Queste sono delle in colorazione Bronze. E infine delle Superduo. Queste sono la colorazione Opac White Dark Travertine. Poi ho usato un filo trasparente perché appunto abbiamo la necessità di cucire sulla base le perline quindi un filo bianco si vedrebbe non starebbe bene e ovviamente l'ago. Io in questo caso sto usando un ago con l'occhiello al centro quindi l'apertura lungo tutta la lunghezza semplicemente perché questo filo è uno 0,20 e l'ago che uso di solito ha una cruna più piccolina e quindi non riuscivo a farlo passare. Allora adesso facciamo un po' di spazio e poi cominciamo con il tutorial che vi dicevo è semplicissimo. Allora la prima cosa da fare è fissare il filo alla base dell'orecchino. Come vedete allora sono stata a meno di un centimetro dal bordo dell'orecchino poi dipende da come voi da quanto grande sarà il vostro orecchino quindi vi potete poi regolare anche sul numero di Elios da utilizzare. Ho fatto un doppio nodino e ho appunto assicurato il filo alla base poi qua ci penseremo a nascondere la codina quando saremo alla fine del lavoro. Magari all'inizio potete stare un pochino più spostati quando iniziate a mettere le perline e a far diciamo stabilizzare un pochino di più il lavoro ecco che vi potete riportare in posizione perché quando ho fatto la prima prova diciamo mi era scappato il filo oltre questa parte qui non riuscivo più a ritirarlo su tutto di sfare tutto ma vabbè questi sono inconvenienti. Allora iniziamo subito con la decorazione quindi prendiamo una Elios e ci infiliamo da sotto, adesso vi faccio vedere come, nel forellino di sinistra in questo modo, passiamo tutto il filo e portiamo giù ad appoggiare la nostra perlina alla base dell'orecchino. Poi prendiamo 6 11 0 1 2 3 4 5 e 6 quindi 6 perline 11 0 le portiamo in fondo così in appoggio sulla Elios entriamo con l'ago nell'altro foro della Elios in modo da appoggiare le perline nella parte alta così proprio a decorarla. Poi a questo punto io ho il filo che passa davanti alla base dell'orecchino quindi con il mio ago mi infilo da sotto all'interno giro intorno al filo con il filo alla base e poi poco prima che l'asola si chiuda ripasso con l'ago dentro in modo da fare una specie di nodino in modo quindi da assicurare così la mia perlina alla base. di qua rimane un pochino più larga quando avremo finito la decorazione che torneremo indietro andremo a fissarla un pochino di più comunque già così è ferma. ok quindi abbiamo fatto questa sorta di nodino intorno alla base dell'orecchino poi se avete come me il filo che arriva da sopra vedete passiamo all'interno della base dell'orecchino quindi tra l'orecchino e la perlina in modo da fare un altro mezzo giro e fissarla ulteriormente poi entriamo da sotto nel buchino della helios soltanto nella helios perché dobbiamo andare a cucire la prossima perlina e così è proprio bella ferma ok quindi a questo punto abbiamo il foro della helios e stiamo uscendo appunto da qua con il nostro filo vado a prendere un'altra helios e inserisco mi inserisco sempre nello stesso foro di prima ma questa volta dall'alto aspettate che messa così mi scappa anche così però in realtà ok quindi mi infilo nello stesso foro di prima ma mentre nella prima ci siamo inseriti da sotto in tutte quelle che andremo ad inserire adesso ci infileremo sempre da sopra quindi ci infiliamo scusate mi sono impigliata nel rocchetto del filo quindi praticamente qua lavoriamo sempre con teniamo sempre il lavoro in mano perché dobbiamo tenerle ferme quindi abbiamo la seconda helios affiancata abbiamo il filo che viene da sopra che passa sopra alla base dell'orecchino quindi ci infiliamo da sotto tra l'orecchino e la perlina in questo modo tiriamo il filo e quando stiamo per chiudere l'asolina adesso mi è scappato aspettate che non riprendo quando stiamo per chiudere l'asolina andiamo a ripassare all'interno il filo come proprio per fare un nodino vedete siamo in questa condizione non so se si riesce a vedere bene così stiamo per chiudere l'asolina quindi io ripasso dentro al filo in modo appunto da fare un piccolo nodino e assicurare la mia perlina alla base ed ecco qua anche questa è fissata da un lato adesso il lavoro è ancora un pochino mobile perché abbiamo appena cominciato quindi un attimo da tenere fermo però man mano che le andiamo a fissare vedete questa poi si bloccherà adesso io ho il mio filo che arriva da sopra alla base quindi passo tra l'orecchino e la perlina da sotto in modo da fare un altro mezzo giro e fissarla ulteriormente ok e poi mi infilo nel forellino della Helios da sotto in questo modo praticamente non faccio altro che girare con l'ago il filo torno alla base in modo da appunto fissare la nostra perlina ok adesso sto uscendo dal foro della Helios inserisco sull'ago 6-11-0 1-2-3-4 dopo facciamo un altro passaggio insieme perché così magari riesco a farvi capire un pochino meglio forse se avessi fatto il tutorial con il filo bianco o con il filo addirittura quello fume si sarebbe visto meglio allora vabbè 6-11-0 le portiamo in fondo ok e adesso entriamo nel foro della Helios dall'alto in modo da creare appunto l'archetto al di sopra della perlina ed eccolo qua adesso dobbiamo fissare anche questo lato per cui io adesso ho il filo che passa da sopra mi infilo da sotto tra la base e la perlina vedete allora aspettate io ho il filo da sopra che poggia sopra all'orecchino se mi mette a fuoco anche il telefono ok no dai ok adesso passo da sotto tra l'orecchino e la Helios tiro bene il filo quando sto arrivando alla chiusura dell'asolina mi infilo nuovamente nel filo così quando vado a tirare ho una specie di nodino ok adesso qua me l'ha perso quindi scusate un secondo ed ecco qua ho rifatto il passaggio ok quindi anche la seconda perlina è fissata adesso io ho il filo che arriva da sotto avendo fatto il nodino diciamo che come posizione vedete va verso il basso per cui per fissare ulteriormente e risalire nella Helios passo da sopra la base quindi mi rinfilo tra la base e la perlina per inserirmi nel foro della Helios da sotto solo nella Helios però quindi vado a dare un altro mezzo giro attorno adesso mi sono impigliata anche nel cavalletto attorno alla base ok quindi nel momento in cui vado ad inserirmi dentro la Helios ho anche fatto un altro mezzo giro e ho assicurato ancora meglio la mia perlina quindi adesso vedete non si muovono più anche se io scuoto rimangono così e ho anche diciamo stabilito la distanza tra l'inizio dell'orecchino e l'inizio della lavorazione adesso facciamo un altro passaggio insieme devo andare ad inserire un'altra Helios per cui prendiamo un'altra Helios appoggio un attimo il lavoro la inserisco sempre in questo foro di sinistra sempre dall'alto verso il basso quindi in questo senso la portiamo giù in modo da appoggiarla diciamo alla nostra base vedete ecco magari così forse non si riesce tanto vediamo se io zoomo cosa dite si vede un po' meglio ecco ok proviamo così allora sto uscendo dal foro basso della Helios e ho la mia perlina appoggiata la devo andare a fissare per cui e ho il filo che passa sopra e vedete allora mi infilo col mio ago passo sotto quindi entro nella base dell'orecchino mi porto avanti quando sto per chiudere l'asolina quando si sta avvicinando il filo io ripasso dentro a questa asolina e in questo modo vado a fermarla creando una specie di nodino ok e così si è fermato il nostro lavoro vedete poi ho il filo che arriva dall'alto in questo caso quindi per dare un altro mezzo giro passo da sotto entro nella base mi avvicino e tiro e mi vado ad inserire nel foro della helios dalla parte bassa in questo modo ok così l'abbiamo fissata ok adesso sto uscendo dal foro alto della helios e devo proseguire con la decorazione ad archetto quindi prendo sull'ago altre 6 11 0 1 2 3 4 5 e 6 eccole qua e mi inserisco nell'altro foro dall'alto in questo modo facciamo passare il filo in modo che non ci si impigli ok adesso come vedete ho il filo che passa sopra la base per cui devo andarlo a fissare quindi entro da sotto tra la base e la perlina tenendo il filo alla destra quindi faccio passare tutto il filo quando l'asolina si sta per chiudere vedete quando non è rimasta tanta rientro con il filo e vado a fare il nodino è una specie di nodino non è proprio un nodo è semplicemente per adesso mi si è aperto di più è semplicemente per dargli un po' più di stabilità vado a fissare un pochino di più insomma così volevo ecco così spero che si sia visto e tirate ecco questa è questa specie di nodino appunto che vi dicevo vedete e abbiamo fissato anche questa perlina adesso in base a il lato da cui la parte da cui vi vi trovate il filo per cui dall'alto o dal basso girate intorno in senso opposto ovviamente guardate ecco così forse si vede un pochino meglio io ho il filo diciamo nella parte alta della base quindi per dare maggiore stabilità alla perlina e per andarmi a reinfilare nel foro della Helios passo da sotto quindi creo un altro mezzo giro nella base e infilo l'ago nella Helios soltanto nella Helios ok passando da sotto in questo caso così fate un altro mezzo giro e date un altro po' di stabilità così ok e adesso anche questa è stabile allora per fare la decorazione dell'intero cerchio ne servono sette per cui adesso proseguiamo come vi ho fatto vedere quindi inserendo un'altra Helios poi facendo l'archetto fissandole e ci ritroviamo alla fine delle sette Helios inserite ed ecco qua il lavoro come si presenta dopo aver inserito tutte e sette le Helios e decorate con gli archetti di 11.0 quindi adesso stiamo uscendo dalla Helios quindi dobbiamo andare a fare la decorazione centrale con le Super Duo quindi rientriamo in 4 delle 6 11.0 appena inserite così io faccio un po' fatica a vedere ok quindi sto uscendo dalla quarta tornando indietro e andiamo a mettere sull'ago una Super Duo ci inseriamo in uno dei fuori delle Super Duo ed entriamo nell'archetto successivo nelle due centrali queste qua quindi così una e due ok tiriamo il filo e la Super Duo si posiziona perfettamente poi prendiamo un altro Super Duo e facciamo la stessa cosa nell'archetto successivo proprio esattamente da dove stavamo uscendo perché se noi entriamo sempre nelle due centrali siamo già posizionate per l'inserimento dopo quindi una e due e la Super Duo è posizionata sto uscendo sempre dalle due centrali ne prendo un'altra in tutto ne servono 11 per orecchino non sono tanti materiali che servono è proprio semplice l'unica cosa appunto un po' tra virgolette rognosa brigosa come volete ditelo come volete voi è il legare le Helios alla base dell'orecchino in realtà potete fare un pochino come volete purché appunto siano legate fisse ok quindi proseguiamo con l'inserimento delle altre tre Super Duo ed ecco com'è il lavoro una volta che abbiamo inserito tutte le Super Duo adesso siamo ritornati vicino alla prima Helios che avevamo inserito quindi in questo momento se qua vi sembra un po' molle ne potete approfittare per scendere fare un altro passaggio e fissarla un pochino di più ad ogni modo anch'io scendo di nuovo perché ho bisogno poi di ritornare su per cui devo fare un'inversione di direzione per cui adesso sto uscendo da qui da una delle 11.0 quindi proseguo mi inserisco anche nelle altre due e mi inserirò anche nella Helios non tiro troppo vi dico la verità non sto tirando troppo basta che non siano molli però ecco qua adesso faccio un giro sotto sto girando il mio filo attorno alla base giro sotto e mi reinserisco nella Helios passando però appunto da sotto così le ho dato un altro tirotto adesso dobbiamo ritornare indietro per inserire altre Super Duo qua in mezzo per cui nello spaziettino tra questa 11.0 e il foro alto della Super Duo andremo inserire un'altra 11.0 per cui portatevi ad uscire dalla terza Super Duo non è vero dalla terza 11.0 partendo dalla Helios ovvero questa ok questa qua esattamente questa inseriamo sull'ago una 11.0 e ci andiamo ad infilare nel foro alto della Super Duo cercando di non impigliare il filo come sto facendo io ok adesso tra una Super Duo e l'altra andiamo a inserire un'altra Super Duo quindi una Super Duo aspettate che provo a girarlo così che magari mi impiglio un po' meno e inserisco nel foro alto della Super Duo accanto e si va a posizionare perfettamente faccio così per tutto il giro e ho inserito anche l'ultimo Super Duo adesso sembrano un pochino spettinate diciamo però quando andremo a fare i prossimi passaggi li andiamo a sistemare adesso siamo arrivati alla fine vedete io sto uscendo dalla Super Duo vado ad inserire un'altra 11.0 come ho fatto dall'altra parte e mi inserisco nella terza 11.0 che va verso la fine della Helios per cui mettiamo mettiamo sul lago 1.11.0 e ci inseriamo appunto nelle 3 11.0 che vanno a terminare questo archetto aspettate che qua adesso la luce sta anche andando giù inizia a non vederci più niente così ecco qua si vede perfettamente però direi e sono andata a fare proprio la decorazione speculare dove l'ho impigliata aspettate che mi sono impigliata scusa ecco qua si è impigliato il filo ed ecco che ho inserito l'11.0 adesso dobbiamo scendere nella Helios fare un altro giro intorno alla base e ritornare su ecco qua io ho girato sono rientrata nella Helios ho girato il filo intorno alla base e sono ritornata su sto uscendo adesso dalla Helios quindi mi porto adesso entro senza inserire niente nel lago con il filo ad uscire da questa 11.0 quindi dall'ultima prima delle super duo quindi facciamolo insieme è l'ultima volta che passiamo per di qua per cui se iniziate a far fatica non preoccupatevi perché direi che poi non ci dovremmo più passare comunque se sentite il lavoro guardate cioè proprio stabile vabbè a parte queste qua che dobbiamo ancora pettinarle ma per il resto l'Helios non si muovono più quindi stiamo uscendo da questa 11.0 andiamo ad inserirne altre tre per poi entrare nel foro alto della super duo che c'è subito dopo quindi una due e tre tre 11.0 e ci infiliamo nel foro alto della super duo ok e questa è pettinata per pettinare tutte le altre andiamo ad inserire tra una super duo e l'altra semplicemente una 11.0 quindi ci infiliamo nel foro alto della super duo che viene dopo eccola qua pettinata anche questa un'altra 11.0 e ci inseriamo nella super duo dopo ecco appunto ok e lo fate anche per le altre due fino ad arrivare vi portate ad uscire dalla punta dell'ultima super duo alta perché poi andremo a finire la decorazione qua quindi continuate ad inserire una 11.0 tra una super duo e l'altra ed ecco qua abbiamo unito tra loro tutte le super duo e stiamo uscendo dal foro alto dell'ultima super duo questa qua andiamo ad inserire sull'ago le 3 11.0 che abbiamo inserito anche sull'altro lato proprio perché facciamo una decorazione speculare e ci andiamo ad inserire quindi 3 11.0 e andiamo ad inserirci in questa 11.0 così ed ecco qua volendo l'orecchino poteva anche essere terminato qua io infatti ero indecisa quando l'ho fatto se andare avanti oppure fermarmi poi ho detto c'è un buco qua gli vado a mettere una perla e ci calza proprio una perla da 6 mm per cui adesso dobbiamo girare tra le perline in modo da uscire girate un po' come volete andate dentro per le super duo uscite per di qua dobbiamo uscire da questa super duo ok ok allora io sono passata da sotto senza essere niente nel lago sono scesa e poi sono risalita da qua sono entrata in questa super duo sono risalita entrata in questa e adesso sto uscendo da questo foro quindi da qua ok da questa super duo andiamo a mettere sull'ago la nostra perla da 6 mm questo è un vetro di boemia rosa se riesco a infilarlo ok riesco a farvelo vedere voi potete mettere quello che avete in casa una perla bianca una perla che ne so rossa o qualsiasi altro colore dipende un po' da come avete abbinato i colori ecco guardate ci sta perfettamente e vi andate ad inserire in questa super duo questa qua speculare proprio quindi esco da qui ed entro in quella che ha subito di fronte questa qua ok adesso io sto entrando anche nella 11.0 me lo stesso non fa niente tanto poi comunque è l'ultimo passaggio dobbiamo poi andare a chiudere il nostro lavoro ed ecco qua spettacolo è semplicissimo però non so per me è molto carino mi piace mi piace tanto ok adesso vi allontanate un pochino da qua fate un paio di nodini nascondete la codina andiamo a nascondere anche quella iniziale e poi ci ritroviamo qui e mettiamo insieme i due anelli quindi i due orecchini ed ecco qua l'orecchino finito a me piace tantissimo ve li faccio vedere insieme per me sono troppo carini mi piacciono proprio tanto sono veramente belli spero che vi siano piaciuti anche a voi fatemi sapere che cosa ne pensate lasciate qualche commento un pollice in su un pollice in giù ditemi se vi è piaciuto se non vi è piaciuto perché non vi è piaciuto perché ci sta insomma non è che ognuno ha i suoi gusti se qualche passaggio soprattutto nel legare l'helios alla base non vi è stato chiaro scrivetemi così magari io vi do qualche chiarimento o faccio un qualche altro video in cui vi mostro non lo so insomma se avete bisogno di qualche chiarimento mi iscrivete commentate quindi il canale nel bene o nel male il canale insomma il video se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti e se vi siete iscritti attivate la campanella perché così non vi perderete i prossimi video perché stanno arrivando ho già un altro paio di progettini pronti devo solo girare i tutorial per cui e vi preannuncio saranno un anello e un bracciale per cui insomma se vi siete un po' incuriositi rimanete con noi e ci vediamo nei prossimi nei prossimi video a presto ciao